Dovete sapere che quando una mantide si sente in pericolo si mette in una posizione specifica chiamata parata di minaccia che è questa che vedete in foto. Per esempio questa è una mantide fiore del diavolo, una femmina che spaventata da questo essere umano prende e si mette in parata di minaccia. Però questa mantide mi ha ricordato tantissimo Frankie di One Piece, mi ricorda tantissimo la sua posizione. Quindi ho preso Ibis Paint X e ho deciso di farci un disegno. Spero che il video vi piaccia, adesso vi lascio al mio disegno. Grazie a tutti.